Mi chiamo Sofia, ho 35 anni, mio marito si chiama Alessandro e ha 36 anni. La mia famiglia è composta in tutto da 5 persone. Io e mio marito abbiamo tre figli. Viviamo in un piccolo paese di campagna in una bella casa con un cortile. I nostri tre figli si chiamano Andrea, Martina e Giacomo. Andrea frequenta l'asilo, Martina e Giacomo frequentano le scuole elementari. I miei tre figli amano giocare a tanti giochi diversi nel cortile. I genitori di mio marito vivono lontano da qui, in città. I miei genitori invece abitano vicino a noi, nello stesso paese. Vogliono molto bene i nostri tre figli e spesso si occupano di loro. Sono molto felice della mia famiglia. a noi, 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 a